Io abito proprio qui di fronte alla banca, ho sentito prima un allarme, all'inizio credevo fosse qualcuno che era andato incontro a una macchina, non lo so, e poi ho sentito un gran boato. Dopodiché mi sono leggermente affacciato, ho visto una macchina nera sgommare, andare verso la parte di là di Minervi, da quelle parti, e dopo due secondi è partito un Audi nera dietro a quest'altra macchina. Sono stati tanti i cittadini di Granarolo che risiedono nella zona di via San Donato ad essere stati svegliati da un forte boato che proveniva dalla banca di Bologna. La filiale, che si trova al Civico 102, è stata presa di mira da una banda di malviventi. Una esplosione talmente forte che ha sventrato completamente l'ingresso della filiale e che probabilmente ha fatto desistere i rabbinatori che sono fuggiti a tutta velocità in direzione bassa bolognese. Uno bussio forte. Molto forte che l'ha svegliato. Eh sì, sono tre e mezzo. Ha sentito anche delle voci oppure solo il boato? No, solo quello ho sentito. Mi sono svegliato verso le quattro meno un quarto con un botto veramente tremendo. Mi sono affacciato alla finestra sul fronte via San Donato perché di solito rappinano l'altro bancomat, però non ho capito, visto che sono abbastanza distante, non ho capito cosa fosse successo, ma ho solo sentito due macchine o anche una macchina e una moto, poteva essere, dallo scarico lacerante come rumore, che sgommando si allontanavano a tutta velocità. Ancora da quantificare il bottino sul posto, si sono recati i carabinieri di Granarolo assieme al reparto della scientifica per i rilievi. Ai militari dell'arma sono state consegnate le immagini delle telecamere di video sorveglianza della banca, che diranno anche da quante persone era composta la banda ed eventuali altri particolari utili alle indagini. Non si è accorta quanta gente c'era nelle auto? Sinceramente ho visto un ragazzo che chiamava gli altri e dopo sono scappati via, però erano tutti vestiti di neri, incappucciati, quindi io non so, non ho visto altro. Io poi siamo andati dentro perché avevamo anche paura, sinceramente.